La possibilità a questa città di poter vivere anche in questo clima natalizio per poter coinvolgere appunto i cittadini a poter vivere di questo Natale in piena serenità. Quindi onestamente non c'è un obiettivo, ma vogliamo dare questo input, vogliamo far sì che questa iniziativa diventi simbolica ogni anno, ripetendo questa iniziativa per offrire della buona musica in augurio delle festività. L'appuntamento è per domenica a che ora? Domenica 20 alle ore 18 varia inizia il concerto e da non dimenticare ovviamente il concerto è supportato anche in amicizia dall'associazione SD 5 Torri Trapani e quindi voglio ringraziare il nostro amico che è qui con noi Giulio Dali. Presidente anche quest'anno il 5 Torri ha voluto in un certo senso sposare questa iniziativa, un momento quindi di solidarietà e condivisione. Sì, noi già l'anno scorso siamo stati vicini al nostro amico Manuel Barbara che è il rappresentante di questa bellissima associazione che è ormai una realtà qui a Trapani. Il nostro vuole essere una presenza per comunque manifestare che lo sport già come in passato è stato presente qui in città a Trapani e abbiamo sempre risposto positivamente e con propositività agli inviti di Emanuele e anche agli inviti di questa bellissima chiesa e quindi credo che sia doveroso da parte di chi comunque fa sport lanciare anche il messaggio che ci possa essere solidarietà. È un momento comunque di aggregazione, è un momento in cui ci deve essere anche la riflessione e noi siamo ben contenti di essere in prima linea e di essere stati invitati a questo bellissimo evento e di avere dato un piccolo contributo per cercare di fare comunque del bene e cercare di essere presenti dove possiamo. Ricordiamo che il concerto si terrà nella chiesa delle anime sante del Purgatorio dove c'è un presepe che è anche visitabile. Sì, esatto. La chiesa del Purgatorio, a parte una pausa dovuta ai lavori di manutenzione ordinaria dello scorso anno, presento ogni anno questo presepe fatto con dedizione da alcuni volontari e sono delle statuette anche in movimento che sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 a mezzogiorno e dalle 16 alle 19 fino al giorno 6 di gennaio.